8.000 euro. 9.000 al telefono. 20.000 euro. A 20.000 euro, altre offerte? Aggiudicato. Pronto? Chi parla? Claire Ibbetson. Non ho ancora deciso, ma vorrei far eseguire una di... come dite voi? Valutazione. E Miss Claire? Chi altro può dirmi sul suo conto? Miss Claire ha una stranissima malattia. Ma... parlare le parla, ma attraverso una porta chiusa. Una porta chiusa? E non l'ha mai vista in faccia? Non solo lui, nessuno la vede. L'ammirazione che nutro per le donne è pari al timore che ho sempre avuto di loro. Girano strane voci tra gli antiquari. Cominci a diventare inaffidabile. Chi è veramente? In ogni falso si nasconde sempre qualcosa di autentico.